...contemporanei su più livelli e con più network di conoscenze, gestisce il suo filo Facebook, però magari ha un blog a cui è collegata una pagina Facebook, quando va in stanza fare recensioni, con i social network geolocalizzati come Foursquare dice dov'è, con Instagram condivide le foto del posto che ha visto e così via, quindi ha tutta una... come dire, numerosissimi strumenti con cui può far sentire la sua voce, mentre prima era un produttore, un'azienda, un grande investitore che compra delle inserzioni e che parla, mentre adesso invece c'è chi riceve il messaggio a sua volta lo diffonde cambiandolo, commentandolo, rilavorandolo insomma. Al centro c'è la persona, cioè quando parliamo di web oggi è finita, finita ora del web 1.0 e oramai anche quella del web 2.0, però non è più l'epoca del sito vetrina, tutti dobbiamo avere il sito altrimenti non esistiamo, adesso è l'era del dobbiamo avere la pagina Facebook altrimenti non siamo al passo con i tempi. Anche se in realtà quelli sono solo strumenti, in realtà quello che conta è la personalità di chi parla e cosa vuole dire, qual è l'idea che vuole diffondere, se non sia un buon ragionamento forte su quello a monte, poi questi restano appunto soltanto strumenti. l'importante è che al centro adesso c'è la persona e ci sono dei valori molto importanti, che sono valori della conversazione umana. Cioè paradossalmente le nuove tecnologie hanno riportato in primo piano l'aspetto più umano delle relazioni economiche, cioè le nuove tecnologie rendono possibile quel tipo di discorso che se volete è quello del mercato, della bancherella, del contatto uno a uno, della raccomandazione dell'amico che ti dice se quel venditore ci si può fidare oppure no, del venditore a cui chiedi lo sconto. Cioè i rapporti umani ritornano in primo piano grazie alla incredibile velocità con cui si possono propagare le informazioni. L'importante è che queste informazioni siano trasferite con piena trasparenza, rispetto, nell'autenticità e nello spirito di collaborazione. Quindi quello che è importante è creare valore con le conversazioni che si creano nel web. Creare valore, cioè diffondere delle idee che siano utili a qualcuno. Giusto qualche numero. Gli italiani connessi a internet oramai sono 20 milioni e in un giorno mediamente sono 14 milioni. Il tempo medio speso da ognuno di noi, io molto di più, qualcuno molto di meno, è un'ora e venti. E gli utenti di italiani su internet, 24 sono su Facebook, 15 milioni di mobile. Cioè moltissime persone oramai usano Facebook solo da smartphone. Qualche dato sociodemografico. 42%, no, 48% donne su internet rispetto al 52% della popolazione, 52% uomini rispetto al 48% della popolazione. Quindi c'è un leggero sbilanciamento a favore degli uomini anche se anno dopo anno la presenza delle donne online è cresciuta più che proporzionalmente. Quindi stanno, diciamo, chiudendo il gap. Se vedete lì, il numero nel quadratino è la media nazionale e il numero del grafico è quello di internet. Nord-ovest 29%, poi seguito dal nord-est, dal centro, sud e isole hanno la percentuale più alta di popolazione e anche di popolazione. e le classi... Eh? Sì. Beh, questa è la DOXA che ce lo dice, quindi ho preso una fonte... Sì, è la suddivisione di quei 28,6 milioni di utenti internet. e fasce di... Più rappresentate, questa volta molto di più rispetto alla media della popolazione italiana, sono quelle 25,34 e 35... Anche 45,54... E stanno crescendo sempre di più, anno su anno, gli over 50, esatto. Questa, vabbè, è l'ascesa vertiginosa di Facebook, oramai non sono neanche 24, sono 26, ad ottobre 2013, gli italiani iscritti. Il grande boom c'è stato a partire dal 2008. Vabbè, ve lo ricorderete, l'avrete vissuto. Sì, questo grafico mette gli utenti attivi nel giorno medio, in relazione al tempo speso, come vedete, la fascia d'età 35,54 è quella più alta, sia per numero di utenti che per tempo speso. Cioè, no, per tempo speso forse è un po' più basso dei giovani, però è decisamente molto grande come gruppo. Come gruppo di persone. Quindi, questo vi dobbiamo pensare... ...delle notizie, delle iniziative, degli eventi, delle iniziative economiche. Quel gruppo di persone è particolarmente presente nel mondo, attraverso il web. E cosa fa? Dove va? Va soprattutto sui social network. Quindi, ma si è visto anche dal rapporto tra utenti Facebook e utenti navigatori connessi in totale, no? L'80% è sui social network e Facebook rappresenta praticamente social network per eccellenza. seguito da siti di news e portali, diciamo, generalisti, siti di video, photo sharing e così via. Al forum, i forum li frequenta il 50% degli utenti. Oggi era farvi un po' una, come dire, un'infarinatura culturale su alcuni concetti di base del marketing. Ma perché, a parte essere stato ed essere tuttora il mio lavoro, sono concetti utili in generale nella vita, secondo me. Al di là del... Dicevo all'inizio, il marketing è una disciplina e non una scienza esoterica. Molto spesso noi lo circondiamo di pregiudizi negativi. No? Tendiamo a pensare a questi geni del marketing, a questi che mi corrompono, mi vendono delle cose che non mi servono. Abbiamo la tendenza a vedere questi, diciamo, i lati deteriori. Anche perché effettivamente ci sono alcune iniziative, alcuni esempi che non sono propriamente dei tempi. Alla base, però, ogni qualvolta voi volete, non lo so, fare arrivare un messaggio in modo efficace a cui non necessariamente vendere quello che fate o i vostri prodotti, ma anche comunicare efficacemente. Qui dentro, dentro questa disciplina, troverete un sacco di utili per comunicare, insomma, per comunicare bene. Beh, sì, questa è... Alla fine... Bisogna tornare appunto alle basi, alle definizioni fondamentali. Quindi lasciamo perdere i corsi super avanzati, andiamo a vedere alcune cose. Alcuni termini sono necessariamente in inglese perché è nato lì, perché, diciamo, la Bibbia del marketing è stata scritta da grandi aziende, come quelle che vi citavo prima. Quindi un po' fa figo usare questi termini, un po' effettivamente alcuni sono intraducibili. Alcuni, non tutti. Per esempio, insight. L'insight è quella cosa che ti fa dire, porca miseria, non ci avevo pensato. Ecco, questa è la definizione più giusta che vi posso dare. Quindi quando voi raccontate una storia o quando voi volete convincere qualcuno che gli serve qualcosa, dovete toccargli una corda. Quindi se voi riuscite a individuare quella corda, tutta la comunicazione costruita intorno a quella cosa andrà a segno. Se invece è una cosa campata per aria, rimarrà una cosa campata per aria, cioè se non è veramente sentita è rilevante. Qui facevo l'esempio stupido di, per esempio, la pubblicità di un prodotto che serve a tenere in buone condizioni la lavastoviglie. Potrebbe dirvi, la tua lavastoviglie, se usi questo prodotto, potrebbe agganciarsi a dei temi puramente, a dei dati di fatto, a dei temi razionali. Se invece emotivamente gli dai una metafora e gli dici, guarda che la lavastoviglie in queste condizioni è come lavare i piatti nell'acqua sporca, è come lavare l'acqua marcia della bacinella lasciata lì da otto giorni. E a quel punto tu dici, oddio mio, che schifo, non me ne ero resa conto. Se qualcuno riesce a farti dire, oddio che schifo, non ci avevo pensato, quello è, gli hai fatto fare quel, ok. È quel fattore aha, così come si parla di fattore X nel marketing, questo è il fattore aha. Cioè quando tu dici, aha, non ci avevo pensato, proprio vero, hai quella scintilla di identificazione che ti apre la porta. In realtà, normalmente tu sei una barriera chiusa fino a quando qualcuno non ti viene a dire qualcosa che ti fa aprire. E quindi le idee creative migliori, tutti questi pubblicitari, eccetera, che lavorano su queste idee creative, in realtà devono partire da un insight che è vero. Se voglio raccontargli storie, storielle, fantasie, proporgli modelli fantastici di vita e di bellezza, se non ci si riconosce, non ci si riconosce. E questo è per cui io non sono d'accordo quando si pensa che il marketing inventi bisogni inesistenti. Non sono inesistenti, vuol dire che ti ho toccato qualcosa che comunque c'è. Se quella cosa non ti dice niente, per te quel prodotto non ti servirà. E infatti per alcuni magari è così, per altri invece quella rilevanza c'è e quindi quel prodotto lo acquisterà. Non tutti siamo uguali, ovviamente, per fortuna. Altre definizioni fondamentali sono l'equity, l'awareness, il positioning. Qui cercherò di andare più veloce. Il nome di valori di una marca, cioè il perché io... L'awareness significa che questo nome lo conosco, lo ricordo. Quindi se c'è bassa awareness, che ne so, solo il 20% delle persone intervistate conosce l'acqua Gaudianello. Allora, se è bassa bisogna lavorare su quello per far aumentare il valore della marca. Se invece è alta bisogna tenere in vita i valori. E quei valori rappresentano quell'asset, quell'insieme di cose intangibili che io attribuisco a questo nome. Per cui sono disposto poi a pagare anche un prezzo. Il posizionamento, e invece un altro concetto di marketing molto importante, è se apro un negozio in questo quartiere e ho in me, che so, tre negozi che fanno la stessa cosa, io cosa farò di diverso? Come mi presenterò per risultare distintivo? Perché mi devo ritagliare il mio territorio. La stessa cosa se ho un sito web, no? E ci sono altri dieci siti che parlano delle stesse cose, io però come lo farò in modo diverso? Quindi è un insieme di scelte che riguarda il target, cioè a chi mi rivolgo, come parlo, cosa prometto, che tipo di beneficio prometto e che tipo di simboli uso, sia concettuali, sia visivi, eccetera. Ovviamente è qualcosa che va molto di pari passo con l'essenza della marca, con la sua personalità. La strategia in qualsiasi cosa, in un piano nella propria vita, bisognerebbe avere degli obiettivi e poi una strategia per raggiungerli. Quindi la strategia è la cosa alla base di qualsiasi piano di vita, appunto. Significa che io posso aggiungere diversi, cioè posso andare dal punto A al punto B, scegliendo delle strade completamente diverse. Scegliere una strada in particolare, non un'altra, è una scelta strategica. Quindi quando parliamo di strategia di comunicazione, adesso ci arriviamo, vediamo che cosa significa. Un insieme di scelte sul modo in cui io voglio dire determinate cose. Ho degli obiettivi e mi chiedo appunto come raggiungere questi obiettivi. Per esempio, se ho una economica di qualsiasi natura e ho degli obiettivi di fatturato, di ricavo, io posso raggiungere quello stesso ricavo praticando prezzi molto alti su quantità basse oppure invece giocando di prezzi più bassi e però a quel punto ho bisogno di volumi e di quantità vendute molto più alte. Sono due strategie di prezzo completamente diverse. Perché completamente diverse? Perché se gioco con un prezzo alto allora devo andarmi a cercare dei clienti che magari siano di un certo tipo, di un certo livello, di una certa fascia. E devo avere dei prodotti qualitativamente superiori, quindi devo investire di più nella qualità del prodotto, nella ricerca dei fornitori. Se invece gioco di volumi devo però probabilmente investire molto in pubblicità perché devo raggiungere parecchie agge, devo far arrivare parecchi acquirenti, non pochi ricchi ma tanti. Per poter tenere i prezzi bassi probabilmente devo tenere bassi, anzi sicuramente anche i prezzi delle materie prime e così via. Due strategie diverse anche se alla fine fanno cento uno e cento l'altro. Beh il concetto è quello che scrive un marketing manager ed è un esercizio che magari potreste fare anche voi. Cioè se io ho un libro, se io ho un sito, proviamo a scrivere il concetto di questo libro, di questo sito. Cioè alla base c'è sempre quell'insight che vi raccontavo prima e quel bisogno. Cioè io su quale aspetto sto puntando, cioè scusa Claudia non vedi. Le persone, cosa sentono, le persone a cui io mi rivolgo, cosa sentono, cosa provano, cosa si aspettano, che bisogni hanno, che sensazioni hanno rispetto a un determinato problema. Quindi tipicamente quello è il problema. Scritto in un modo che la maggior parte delle persone a cui mi rivolgo ci si riconosca, ci si identifichi. Il beneficio è cosa faccio io per te per risolverti quel problema. Quindi risponde alla domanda, questa lettura per me, come mi cambierà la mia vita, che tipo di vantaggi posso trovare leggermente, anziché un altro, o andando a fare spesa in questo locale piuttosto che quell'altro. Molto spesso il beneficio viene riassunto in un, quello che i pubblicitari chiamano un claim, cioè una cosa forte, che dice, non lo so, capelli più lucenti in sette giorni. A proposito, dopo mi devi indicare il parrucchiere che sta rovinata. Quindi deciso è, circostanziato è dimostrabile è, meglio è. Per questo, per dimostrarlo, la terza e ultima parte del concetto è la reason why, cioè la ragione per cui io dovrei crederti. Cioè, mi hai detto che io ho questo problema e vabbè, sono d'accordo, ce l'ho a questo problema. Mi hai promesso che farai questo per me, per risolverlo, però devo crederti, perché poi alla fine è anche questo un discorso importante, no? La credibilità di quello che si promette. Se io ti fornisco il supporto, i dati, le evidenze, le ragioni, il fatto che soltanto io ho brevettato questa formula, il fatto che soltanto io ho determinate caratteristiche nei miei processi, il modo in cui io faccio le cose, allora mi hai convinto. Poi chiaramente è sempre la prova che mi convince, però la reason why serve a fornire tutte le informazioni a supporto del beneficio perché non sia appunto una promessa, anche quella campata per aria, è inutile. Qui, per esempio, siccome ultimamente nel cibo si sta molto attenti agli ingredienti naturali, si usa molto spesso l'espressione ingredienti naturali oppure bio, secondo voi quello è un beneficio o è una reason why? Ditemelo voi. Cioè il fatto che io compro un prodotto bio, è un beneficio il fatto che sia prodotto in un certo modo? Cioè dipende da cosa voi cercate nel prodotto, giusto? Non lo so, le zucchine. Cosa devono fare per voi? Che beneficio vi devono dare? Proviamo a dire due o tre cose, giusto? Essere buone. Non devono contenere, quindi quello che non vi facciano male deve essere una rassicurazione, però la prima cosa che hai detto è che devono comunque soddisfare, devono essere buone, quindi se io compro delle zucchine che mi vengono vendute come bio e poi fanno schifo, probabilmente anche se sono bio non hanno comunque soddisfatto il mio bisogno principale che era di cucinare una buona vellutata o una cosa così, no? Quindi secondo me, a mio onesto parere, il bio è una reason why, non è un beneficio. Poi tutto il portato culturale che c'è intorno agli alimenti biologici e anche il sovrapprezzo che ci mettono sopra ci portano a pensare che siano degli ingredienti superiori, ma perché più per la paura che abbiamo di quello che non conosciamo, che non sappiamo che viene fatto, forse è più come rassicurazione, che non come vero e proprio beneficio primario del prodotto. Era solo una provocazione giusto per ragionarci un po' su. E poi la pubblicità, poi il marketing ovviamente ha a che fare con il copy, il copywriter è chi scrive i testi delle pubblicità. Anche questo è un mestiere molto spesso demonizzato, distrattato, eccetera, eccetera. Molto spesso vediamo delle pubblicità e diciamo, vorrei proprio conoscere il copy, senza sapere che dietro magari ci sono dei processi molto complicati per cui... Ci sono quelle geniali che dicono che chi l'ha pensato è veramente grande, è veramente forte, però sappiate che ci sono dei processi molto, molto complicati dietro l'approvazione di una pubblicità. Adesso non dico che affissioni nelle città o delle cose certe volte veramente squallide che si vedono, ma nelle grandi aziende, diciamo, quelle organizzate, strutturate, eccetera, eccetera, ci sono livelli, gerarchie, ci sono giochi di potere tra il cliente che commissiona la campagna, l'agenzia che gli propone delle proposte, il cliente che al suo interno deve convincere le proprie gerarchie sulla proposta che preferisce, poi magari arriva un altro capo, gli ammazza una, gli fa completamente rilavorare un'altra, allora ripeschiamo la prima che era stata proposta, no, proponimene altre tre, insomma è molto lungo, molto lungo il processo e molto spesso quello che si vede che viene fuori è un gioco proprio di compromessi tra tante teste che hanno dovuto più o meno soddisfare il capo, il capo del capo, eccetera, eccetera, quindi non sempre appunto il lavoro viene fatto secondo quello che il famoso creativo aveva immaginato e aveva pensato, perché intervengono appunto tanti compromessi lungo la strada, e quello che è importante però è sempre che alla base ci sia una strategia chiara, ok, quindi si scrive un documento che è la strategia che fornisce le linee guida con cui dovrà essere sviluppata l'idea creativa, quindi sì, appunto, il marketing vi sembrerà tanto il regno dei creativi, dell'esuberanza, ma in realtà è molto disciplinato, molto strutturato, il web adesso ha portato una ventata di nuove professioni in cui ancora non si capisce bene chi fa cosa, diciamoci la verità, però anche quello si sta strutturando, le competenze stanno emergendo, i diversi settori di competenza si stanno chiarendo, perché è un'evoluzione naturale, all'inizio c'è una materia che è tutta nuova, in questo caso le saponette degli anni 50 e la pubblicità, e poi piano piano viene regolamentato, come dire, vengono scritti dei manuali, è la stessa cosa che sta succedendo anche nel web. Un pezzo fondamentale del manuale, del bravo pubblicitario, è appunto la copy strategy, che contiene questi pezzi qui, il target a chi ci rivolgiamo, provate a pensarlo sempre alla luce di quello che voi fate quotidianamente, delle vostre attività. La promessa, cioè qual è il concetto centrale, il principale messaggio che io voglio dare, questo prodotto farà questo per te. Quanto più semplice è, più efficace è, state tranquilli, cioè se promettete di fare tre cose, siete meno credibili che se promettete di farne una bene, quindi il focus, la specializzazione, la scelta di una cosa che vi contraddistingue. La risonquai, dicevamo, cioè la spiegazione che accredita quella promessa, che la rende possibile, credibile, tutto quello che serve a supportare in termini di dati, informazioni, test, perché molto spesso nelle pubblicità sentiamo nove donne su dieci, ci hanno detto che perché testano, perché testano, cioè sembra che ci prendono in giro, ma quei test li hanno fatti veramente. Poi è ovvio che quelle sono dichiarazioni, però per dire nove donne su dieci devi avere veramente un test che ti dice il 90% delle risposte è stato così. È meglio avere dei test strumentali, è meglio avere dei test oggettivi, per esempio le creme antirughe, è bellissimo poter dimostrare con delle macchine che misurano la profondità della linetta, che una crema ha avuto questo effetto e l'altra invece ha avuto quest'altro effetto. Lì sono dei dati, effettivamente, poi magari a occhio nudo non sono visibili, però ho dei dati oggettivi. Il tono di voce, quando si parla di comunicazione e si vuole sviluppare una campagna pubblicitaria, è fondamentale avere le idee chiare sul tipo di stile che si vuole adottare, cioè di personalità. Perché io posso dare lo stesso messaggio sullo stesso beneficio, con le stesse evidenze, dati a supporto, ma posso farlo in camice bianco con uno stile molto autorevole, molto scientifico, o posso farlo con uno stile completamente diverso, informale, usare la riunione tra amiche, ancora una volta due strategie diverse. Alla fine, se il nostro target potenziale all'inizio era qui e pensava a determinate cose, magari appunto aveva delle barriere all'acquisto, dopo essere stato esposto a questa comunicazione che parte da un insight vincente, da un messaggio chiaro, univoco, e ha delle evidenze forti e un tono di voce in linea con quella marca, con quel messaggio, eccetera, se tutto è stato fatto bene, alla fine di questo processo il consumatore che prima pensava no, adesso penserà, ma sì, forse, perché no? Questo è l'obiettivo di una comunicazione. Beh, questo è un esempio, è giusto, sono sicura che se lo leggete vi viene in mente il sapone chi è? Lo capite? Chi è che lascia la bella più morbida? Contiene una percentuale di latte di idratante, questi hanno scelto una, a pensare da quanti anni? Solo un quarto di latte di idratante, un quarto di crema idratante, e ce l'hanno ancora nella vostra testa, come vedete, da, secondo me, 15 anni abbondanti, sì, sì, che... Oramai non hanno neanche più bisogno di dirlo, però quel visual del latte che si versava nel sapone era fantastico, quell'immagine, e già, perché poi abbiamo parlato di tutto il mondo visivo, perché fin qui siamo sui concetti e sulle cose che io voglio dire, ma quando poi trasferisco questa cosa nel linguaggio delle immagini, e trovo l'immagine precisa per quel messaggio, lì ho fatto bingo, no? Ora, tutto questo mondo che io vi ho riassunto in, che ne so, dieci minuti di chiacchierata, che in realtà appunto riempie libri e libri, sta cambiando, cioè il marketing tradizionale, con quei concetti chiave che abbiamo visto, sta cambiando molto, proprio in questi anni, proprio in questo momento che viviamo, che è un momento di passaggio dal marketing del largo consul, di massa, diciamo, dalla comunicazione di massa, alla conversazione, perché io non ho un altro modo per definirlo, questo cambio epocale che c'è stato. Mentre lì nella mia vita precedente io avevo il mio piano di marketing e gestivo le varie leve, no? Quanto metterli in pubblicità, quanto metterli in promozione, quanto fare disconti, il piano media, quanto in televisione, quanto in stampa, ok, stabilivo tutto io. Adesso io gestisco un mio budget di comunicazione, ma poi la fine che quella comunicazione fa lo decide la gente, perché mentre prima riceveva passivamente col mio megafono, adesso anche loro hanno un megafono, tutti, tutti voi, grazie appunto alle tecnologie velocissime del web, per cui io posso riprendere uno spot, pubblicarlo con un commento, il mio amico lo può condividere, poi su YouTube, tutte le community che ci sono, che si attivano per parlare bene o parlare male di alcuni prodotti, quindi c'è molto, molto più potere nelle mani dei consumatori. Quindi in qualche modo la marca è come se venisse dirottata, cioè prende delle strade, delle direzioni che non sono necessariamente prevedibili da chi ha fatto un piano di marketing. e questo è il bello e anche il brutto, perché ovviamente ha spaventato tantissimo le aziende, questo cambiamento culturale, e quindi ancora si stanno attrezzando per organizzarsi al meglio e per riflettere al loro interno e nelle loro organizzazioni questo cambiamento culturale. Quindi adesso ci sono delle figure, delle competenze nelle aziende che si stanno sviluppando, almeno che prima non c'erano, come quelle appunto legate al mondo dei social media. Ma se prima tutto il focus era sul prodotto che ti devo vendere e sulla transazione, cioè sul lato d'acquisto, adesso il focus è sulla relazione. Cioè è molto più importante, come dicevo prima, torna paradossalmente il web, che sembrerebbe una cosa tecnologica e fredda, torna invece a dare valore al rapporto umano diretto. E' molto più importante la relazione di fiducia che non l'acquisto immediato. Tant'è vero che noi nel web abbiamo una reazione negativa se qualcuno ci propone subito spam, cioè la vendita aggressiva viene subito percepita, anche se uno arriva su un gruppo Facebook appena creato e comincia a mettere segnalazioni di e-shop, di offerte, di cose eccetera, prima o poi ci scocciamo, glielo diciamo, cioè non sei qui per fare pubblicità. E' la stessa cosa, cioè anche i grandi brand devono inventarsi dei modi per aggregare, coagulare le persone intorno ai loro valori, che sono i loro valori storici di sempre, non per vendergli prodotto, perché le comunità del web apprezzano appunto la creazione di valore, cioè trattare degli argomenti, diffondere delle informazioni utili, fare educazione, fare delle iniziative di responsabilità sociale che facciano bene alla comunità e che diano valore non solo a chi vende dei prodotti, ma anche, quindi non solo al brand, ma anche all'utente. quindi io sì, sto qui a sentirti, sto, faccio delle cose con te, però a me che me ne viene? Cioè se devo essere solo io a regalare il mio tempo a te o a comprare il tuo prodotto, anche tu devi fare qualcosa per me. C'è molto più questo rapporto, come dire, paritario. Paritario. E un'altra cosa poi che emerge da qui è il cambio dei modelli di comunicazione, mentre prima vivevamo in queste pubblicità di ostentazione, in un mondo di tutti belli, ricchi, giovani, adesso non apprezziamo più tanto l'ostentazione, apprezziamo l'autenticità, apprezziamo le storie vere, di persone vere e quindi c'è tutto un grande filone adesso che si chiama storytelling, cioè come raccontare delle storie che siano veramente avvincenti per le persone, significative, rilevanti per le persone. Non è più tanto la felicità del consumo, appunto gli anni del consumismo, siamo in una fase in cui invece conta il consumo felice, magari anche riducendolo. E' più che il potere d'acquisto, la consapevolezza d'acquisto, cioè il fatto che io le cose che compro le compro perché ho valutato, mi sono informato, ho ragionato, ho visto i pro e i contro, mi sono confrontato con altri che hanno quelle stesse esigenze, alla fine ho preso una decisione, non perché sono bombardato da status symbol che devo, no? quegli anni sono finiti, insomma, adesso c'è molta più attenzione critica negli atteggiamenti di consumo. Questa potrebbe sembrare molto difficile, molto tecnica, ma significa solo che in questo nuovo mondo in cui il marketing è cambiato così tanto grazie al web, non c'è più, non ci sono solo i canali pagati come appunto la stampa, la televisione, la radio, i magazine, il cinema, l'outdoor, cioè le affissioni, i banner in giro per i siti, eccetera, eccetera, quindi quello c'è ancora come canale per raggiungere un bacino quanto più ampio possibile di sconosciuti, ma poi ci sono dei canali molto importanti da gestire che sono quelli posseduti, cioè la pagina Facebook, l'account Twitter e tutti i contenuti che i brand producono nel web e infine quelli guadagnati, cioè quelli su cui il brand o comunque chi gestisce l'attività non ha più nessuna influenza ma conta soltanto il passaparola che fanno tra di loro i consumatori, quindi quello che si chiama media mix non è più fatto di canali pagati ma include anche quelli gestiti gratuitamente perché per aprire una pagina Facebook non paghi niente però devi investirci del tempo e del pensiero e quelli infine gestiti dagli altri cioè tutta alla fine la tua reputazione sia come persona sia come attività imprenditore come azienda e come marchio non è più solo quello che tu dici di te e soprattutto quello che tu tutti gli altri tutte le conversazioni che si generano intorno a te si dice che oramai tu sei quello che Google dice di te no? vi inquieta questa cosa? abbastanza però l'avete fatto di mettere il vostro nome su Google no? lo fate no? allora e quindi si aprono delle nuove branche in questa in questa disciplina che è il marketing per cui possiamo parlare appunto di vari tipi di marketing fino all'unconventional abbiamo messo cioè fino a quelli più come dire alle modalità più aggressive provocatori eccetera che poi hanno come finalità sempre quello di farsi notare generare una risposta l'importante è che non sia una risposta qualunque però sapete quando si dice vabbè tanto lo fanno per far parlare tanto l'importante e far parlare di sé in realtà chi gestisce con intelligenza la propria reputazione vuole uscire su Google per determinati argomenti chiave di cui si vuole su cui vuole essere considerata autorevole quindi non parlare tanto per parlare ma parlare di me perché sono esperto di questa materia perché sono il migliore in questa cosa e quindi produrre dei contenuti serve a questo l'outbound cioè il marketing che andava ad interrompere le persone sta finendo e invece inizia l'era del marketing inbound cioè quello che attira le persone la stessa differenza che c'è tra push cioè ti voglio convincere a tutti i costi te lo ripeto 50.000 voto tu sentirai questo annuncio pubblicitario tante di quelle volte che eccola e invece pull pull significa che anche se lo vedi una volta quella cosa ma perché tu stavi cercando stavi facendo una ricerca su quell'argomento ed eri in un momento in cui eri particolarmente sensibile perché avevi quel problema stavi facendo no un confronto ecco in quel momento becchi quel contenuto che io ho prodotto che è particolarmente utile ricco di spunti ti fa venire delle idee e allora nella tua testa io comincio a diventare l'esperto di quella roba no produrre contenuti significa quindi non interrompere le esperienze che le persone stavano facendo ma creare rafforzare e creare delle esperienze utili per le persone delle conoscenze chiamatele anche così tutto parte dagli obiettivi quindi ogni volta che farete un piano un piano dei contenuti appunto se siete sul web tutto parte dagli obiettivi che vi state ponendo è semplicemente farvi conoscere attrarre nuovi clienti oppure informare meglio su certe cose rispondere a dei dubbi a delle obiezioni diventare autorevoli in una materia generare passaparola cioè fare in modo che le persone portino altre persone da me generare empatia con una base di fan potremmo andare avanti cioè ogni attività deve darsi e quindi anche semplicemente apriamo la pagina facebook non serve aprire la pagina facebook se prima non si è fatto questo tipo di ragionamento qua che tipo di obiettivi ho? dopodiché quali sono i contenuti più adatti per gli obiettivi che mi sono dato? quello che abbiamo visto è che le persone amano le storie quindi le storie funzionano se sono rilevanti se sono autentiche se sono umani divertenti se appunto si agganciano a qualche cosa emotiva forte la cosa più importante quando si si parla con le persone è cercare di evitare di parlare di sé e parlare invece di loro quello che fa che fa scattare l'interesse in una persona vi capita delle conversazioni dopo un po' di spegnere l'interesse perché tanto quello sta solo raccontando di cosa ha fatto dove è stato quanto era bello se invece vi chiede cose su di voi e se vi porta a parlare di voi vi fa parlare di quello di cui avete bisogno e poi vi fornisce anche delle idee degli stimoli e delle cose legati appunto concretamente a quello che è il vostro bisogno in quel momento quella è una conversazione che voi definite di valore cioè pensate se andate ad una cena ad un incontro con qualcuno e se tornate a casa dicendo beh è stato proprio interessante conoscere questa persona perché perché vi ha vi ha fatto venire in mente vi ha diciamo dato degli stimoli utili ma utili in base a quello che è rilevante per voi non in base a quanto è bravo bello e simpatico lui dovete sempre applicarlo a quello che vi serve e quindi siccome l'arte del marketing sta diventando sempre di più attrarre le persone con cose rilevanti per loro bisogna diventare dei veri maestri nella produzione di questo genere di contenuti contenuti rilevanti per loro e questo per le aziende è particolarmente difficile perché le aziende sono abituate a scrivere la brochure del loro prodotto la presentazione dei loro servizi le aziende parlano di sé che siamo fondati dal siamo nati nel 1800 abbiamo una tradizione ok questo era lo stile tipico ma questo è uno stile di interruzione degli altri io vengo a propormi cioè come dire è uno stile più invasivo io mi presento a te per quello che sono eccetera cambiare completamente mettersi dall'altro lato e dire ma adesso questo cosa ha in mente cosa che esperienze vive che problemi ha e fornire contenuti che servono a risolvere quei problemi non necessariamente parlando dei miei prodotti perché quello può arrivare molto 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 dopo non serve a creare fiducia relazione eccetera eccetera e questo vabbè è un po' ironica è come se fosse la tavola periodica degli elementi per dire che ci sono tantissimi modi tanti strumenti con cui organizzare i contenuti quindi per esempio io dopo questa giornata oggi potrei mettere su slide share questa presentazione e quindi avrei usato il formato presentazione oppure posso diffondere delle brevi pillole video e quindi usare il formato visivo che probabilmente se non fossi così rovinata probabilmente funzionerebbe meglio potrei scrivere un più di stadi molto serio su quanto è importante la formazione su cosa ho imparato articoli ebook 5.490 4.70 ah no sono le durate è vero sai che non l'avevo notato sono il si 3.750 battute 25.000 battute e la lunghezza quindi ci sono alcuni per esempio il video mediamente funziona un minuto e mezzo già due minuti no cominciamo a a spegnerlo e a cambiare 12 pagine 12 pagine 12 pagine sì i guru del content marketing ci dicono che quelle sono diciamo le lunghezze le lunghezze ideali la newsletter il comunicato stampa eccetera eccetera beh comunque ognuno di questi questo è solo per dirvi che per ogni obiettivo voi avrete probabilmente delle storie da raccontare una volta deciso il taglio da dare a quella storia ci sono tanti formati questi sono formati che potete utilizzare quindi se è un taglio serio supportato da dati scientifici da ricerca eccetera probabilmente avete bisogno di un di un white paper cioè di un articolo come di una ricerca no? particolarmente sostanzioso denso eccetera se invece è un articolo di taglio di stampo più umoristico allora è un diverso formato quello che dovete scegliere e così via il consiglio è quello di è quello di di diffondere quanto più possibile di essere diciamo quanto più generosi possibile nella produzione dei contenuti noi che lavoriamo sul web sappiamo la risorsa fondamentale che scarseggia è il tempo perché perché veramente quanto più si produce più hai la possibilità di intercettare il pubblico che sta cercando quegli argomenti che si sta interessando a quegli argomenti no? Eventi intervistare gente diffondere raccogliere le notizie del settore fare un'antologia dei migliori articoli pubblicati pubblicati su quell'argomento tutto questo è un esempio di come si può fare appunto content management altro concetto che sentirete spesso se non l'avete ancora sentito è il personal brand cioè oramai il brand non è più soltanto un marchio come Coca-Cola o Nutella o i grandi marchi eccetera siccome voi avete nelle vostre mani la possibilità di produrre contenuti e lo fate quotidianamente attraverso Facebook i social network tutti i canali le vie che deciderete di utilizzare siete anche voi dei brand cioè come dicevamo Google quello che dice di voi no? non è banale e costruire questa reputazione è quello che farà sì che voi venite scelti veniate scelti per da un cliente da un da un partner di business da un datore di lavoro eccetera eccetera è anche il motivo per cui appunto io e Claudia siamo conosciute e siamo invitate no? no? è il nostro personal branding lei per certe materie sono sue proprie tipiche e io per l'esatto opposto per altre materie e poi facciamo branding anche giocando su questa su questa differenza no? no? a parte tutto ci sono libri interi di cui qui vi ho messo il più famoso il più importante che vi spiegano come creare diciamo come creare una reputazione no? come creare una buona reputazione su quello che si fa in modo tale che le persone ti trovino ti trovino e io infatti la prossima settimana vado a Modena per una signora che mi ha contattata su Twitter ha visto che mi occupo di alcune cose e quindi mi ha chiesto di andare a tenere un corso da loro per la house di Modena quindi sono contenta insomma vuol dire che comunque per quel tempo che riesco a dedicare alla cosa poi torna anche c'è anche un ritorno ecco un conventional marketing facciamolo strano cioè sono tutti quegli strumenti di marketing che chiamiamo appunto non convenzionali intanto il famoso io qui andrò per definizioni molto veloci no? il marketing virale cosa significa? Virale significa una forma estremamente amplificata di passaparola cioè di condivisione di determinati contenuti succede che ci siano dei fenomeni in determinati momenti per cui alcuni alcuni video alcuni post alcuni articoli vengono condivisi da un sacco di persone la gente nel marketing si chiede come faccio a produrre un contenuto che possa essere visualizzato e condiviso da un sacco di persone e questo è difficile perché il paradosso è che l'attività di marketing in genere pianifica ma la trasmissione virale di un messaggio è una cosa totalmente spontanea e imprevedibile quindi pianificare un qualcosa di virale è quando tipicamente nell'agenzia il cliente chiedeva fammi un video virale su questa cosa è stato il periodo in cui tutti i video virali dovevano essere è impossibile pianificare a priori puoi solo capire a posteriori che cosa ha fatto sì che quel messaggio fosse particolarmente virale e poi sforzarti di riprodurre in laboratorio gli elementi che lo hanno reso virale virale è la strategia word amount è il cane buzz è l'effetto questo è sempre per questioni appunto di queste famose terminologie che si usano in questo in questo ambiente per esempio ci sono alcuni ci sono alcuni ingredienti sì ci sono alcuni ingredienti che hanno un certo un certo successo appunto si dice per definizione tutto quello che sono emozioni bambini tenerezza ecco ma anche ironia parodia questo perché perché si gioca su alcune emozioni umane fondamentali quando vengono attivate quando vengono toccate queste corde io tendo a volerlo condividere anche con gli amici insomma questo sentimento che ho appena provato quindi ho visto questa cosa un tema di attualità di politica eccetera sono sdegnato e quindi ve lo ve lo ve lo racconto oppure questa cosa fa fa paura di solito la sorpresa cioè sì l'effetto sorpresa è quello che che ha parecchio successo alcuni esempi questa è una battaglia che anni fa ha avuto un grande successo perché erano dei mini video girati con il protagonista molto famoso di una pubblicità di un deodorante un protagonista molto molto amato di una pubblicità e lui riprendeva alcuni tweet delle persone che mandavano domande e li usava come diciamo spunto creativo per un mini video quindi lui in realtà rispondeva ai tweet delle persone in video ogni giorno ne pubblicavano di nuovi e quindi la cosa geniale di questa che poi appunto ha avuto una grandissima diffusione perché più le persone vedevano che uscivano nuovi video che avevano dentro i loro tweet per dirla insomma in due parole e più chiaramente si rivolgevano a questo a questo personaggio per farsi rispondere e loro sceglievano ogni giorno uno o due non lo so da rispondere ok quest'altro anche molto è molto famoso ve lo farei vedere ma noi abbiamo internet no ok però se cercate will it blend che significa lo frullerà se cercate lo frullerà praticamente questo tipo che poi si goncia nelle maniere più simpatiche più assurde riesce a frullare cioè l'ha fatto con un iphone l'ha fatto con un ipad sì quindi dimostra la potenza di quel frullatore mettendoci dentro delle robe incredibili e poi ovviamente dicendo non ripetete questo esperimento a casa c'è una serie incredibile cioè di tantissimi video perché appunto ha fatto tantissime visualizzazioni ha avuto un grande successo anche questo è il famoso DAV anche questo ma guardate 14 15 milioni di visualizzazioni vabbè oggi ne ho ancora di più quello di Will It Blend con l'ipad 16 milioni esatto esatto beh sì questo è un video che fa vedere come questa ragazza all'inizio normalissima viene poi viene truccata poi viene fatto lo shooting poi si va di photoshop alla grande ed esce fuori un manifesto con una modella bellissima e il messaggio è la percezione che abbiamo della bellezza è distorta ovviamente è distorta perché non è la verità la campagna di DAV sulla bellezza autentica ha fatto molti contenuti e lì c'è una distanza sociale forte cioè loro hanno avuto la bravura di collegare il loro brand ad una emozione forte cioè che è quella dell'autostima delle donne che è continuamente sotto assedio per questi modelli di bellezza falsi finti c'era anche quell'altro video non so se qualcuno l'ha visto nel quale c'era un ritratista e si chiedeva eh sì c'erano diverse persone in una sala d'attesa e questo ritratista non vedeva le persone in faccia per esempio entravi tu e gli chiedeva di descriverti tu ti descrivervi e lui ti ritornava poi chiamava lei che ti ha visto in sala d'attesa e gli chiedeva di descriverti e in pratica la persona era sempre molto più bella nella descrizione dell'altro e di quella di se stessa sì poi fioriscono anche le parodie perché c'è la parodia al maschile sì 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 il messaggio per le donne era donne siete più belle di quello che voi pensate perché poi si vedeva appunto si vedeva fianco a fianco il ritratto fatto con la descrizione di sé e il ritratto fatto con la descrizione degli altri e l'altro era sempre più bello cioè noi ci vediamo sempre molto più autocritica invece la parodia al maschile la parodia al maschile c'erano le donne che l'avevano visto che lo descrivevano come un mostro e lui invece che si descriveva come Brad Pitt George Clooney uscivano proprio i ritratti degli attori alla fine molto divertenti un altro infatti indice di successo di un video è la quantità di parodie perché nel momento in cui diventa molto diffuso e molto conosciuto la parodia a sua volta è un altro modo per farsi conoscere in realtà rispetto al viral che poi non so quanto effettivamente porti cioè il fatto che io abbia migliaia 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 di condivisioni alla fine però ricordatevi la mia fissazione di sempre è ok l'obiettivo di comunicazione l'ho raggiunto il messaggio che volevo dare l'ho dato o comunque ho fatto ridere un po' di gente basta è molto più strategico invece diretto al punto un piano di passaparola che significa far parlare bene di me per una cosa ok quindi rafforzare attraverso il passaparola spontaneo ovviamente per essere sincero altrimenti non vale rafforzare l'immagine di una marca è un'arte cioè anche qui ci scrivono libri potete trovare un libro che si intitola l'arte del passaparola da cui ho preso alcuni spunti perché bisogna essere degni di nota bisogna essere completamente onesti e degni di fiducia altrimenti una persona non raccomanda ad un amico qualcosa di te cioè perché dovrebbe esporsi correre un rischio e metterci la faccia se non è sicuro che quello che veramente sta dicendo è vero quindi l'arte di guadagnarsi delle raccomandazioni positive è molto difficile perché bisogna veramente colpire l'immaginazione di qualcuno per portarlo a parlarne bene anche perché poi noi come proprio indole siamo molto più portati a lamentarci che a parlare dimentichiamo diamo per scontate le esperienze regolari positive invece ci colpiscono quelle negative e poi vogliamo vendicarci raccontandoli in giro invece colpire qualcuno sorprenderlo vedete che l'emozione fondamentale è sempre la sorpresa con qualcosa di veramente fuori dalla norma in positivo è difficile bisogna dare una buona ragione per parlare di sé e dei propri servizi una ragione semplice chiara e poi facilitare l'avvio della conversazione fornendo dei temi e fornendo anche degli strumenti anche semplicemente l'email che dà la possibilità di condividere un determinato messaggio cioè se tu hai uno strumento semplice con cui con un click condividi quella storia quella cosa su facebook su tuo facebook su tuo twitter tu hai facilitato la condivisione quindi il passaparola ma perché perché le persone parlano con gli altri dando dei suggerimenti cioè chi ha esperienza di forma che lo sa perché le persone danno delle raccomandazioni agli altri lo chiedo a te quindi per altruismo per altruismo anche per sentirsi dei leader anche per sentirsi autorevoli cioè se io do un buon consiglio e sono sempre quello che risolve il problema vuol dire che sono il più competente su quella su quella roba giusto? se sono stata bene mi fa piacere che anche gli altri non stanno sì cioè io magari ho trovato la soluzione al mio problema mi sono trovato bene quindi aiuto te tra un forum cioè quindi il collettivo sociale e appunto il collettivo commerciale sì secondo me il forum è più per altruismo che mi volete e ci sostegno ma è invece il meccanismo del blog e con l'altra che volete dall'altro se io da blog scrivo un articolo in cui dico ho cercato una soluzione a questa roba ho provato A, B, C e D e vi dico dopo aver visto i pro e contro che la cosa migliore che ho fatto è D lì decisamente essendo io il padrone di casa che sto parlando sono più autorevole quando invece uno scambio è più tra pari ma è diverso perché comunque l'impro a volte è anche tra pari cioè nel senso il problema è con me io l'ho provato te lo dico e ti faccio sapere perché invece al contrario nel forum secondo me non c'è questo meccanismo a meno che magari personalità particolare che vogliono spiegare beh ci sono ci sono ci sono non è lo scopo di poi mi spiego ci sono degli esempi cioè quando tu vuoi dare l'avvio a questa parola è decisamente una cosa una cosa difficile quella non lo so magari hai scritto un libro e vuoi fare in modo che se ne parli che si sparga la voce ecco il famoso spargere la voce la prima cosa che bisognerebbe fare è un esercizio di monitoraggio per vedere chi sono quelli che più volentieri chiacchierano di quella materia parlano di quelle di quelle cose e quindi sono disposti a fornire consigli su alcune su alcune cose esatto poi fornire a quei conversatori potenziali delle informazioni degli argomenti e soprattutto fornire loro delle buone esperienze cioè fargli vivere delle buone esperienze perché a quel punto saranno più disposti a raccontarle e a parlarne qui potremmo entrare nell'ambito appunto delle famose digital PR che cercano di fare questo chi meglio chi peggio chi in modo maldestro chi limitandosi a mandare un comunicato perché pensa che così con tutte le informazioni che ci sono in quel comunicato ci sarà qualcosa che la persona ma che ci provo avrà voglia di riprenderlo e pubblicarlo e dare questa notizia in realtà è molto più difficile di così bisogna creare delle esperienze significative far vive a delle persone delle cose nuove e a quel punto se l'avranno ritenuto utile e interessante lo racconteranno perché penseranno che sia di beneficio per gli altri per gli altri che li seguono ci sono non pensiamo solo online pensiamo anche offline ho trovato degli esempi veramente brillanti di alcune categorie di persone che sono state diciamo ingaggiate in piani di passaparola per esempio i barbieri in America la campagna per la prevenzione e il controllo della prostata è stata fatta attraverso i barbieri che chiacchierano così come si potrebbe fare con i parrucchieri per la prevenzione al seno secondo me cioè fornire loro dei materiali dargli uno spunto perché nel corso della conversazione si genera una certa fiducia intimità eccetera eccetera con cui lui poi può lasciargli magari del materiale informativo eccetera idee anche molto così apparentemente stupide che avrebbero secondo me molto più successo di quelle stupidaggini di giochi di giochini facebook che vediamo che facciamo le catene di Sant'Antonio su facebook per dire che cioè alla fine se mi devi passare un messaggio passami un messaggio cioè fammi dire la cosa rilevante per il mio problema siamo sempre là cioè mi devi far arrivare un messaggio rilevante che mi interessa della meccanica del giochino sai a cosa mi riferisco la catena di Sant'Antonio per il mese della prevenzione ok mi sono presa la briga di parlare direttamente con la LILT la lega italiana sì per dire ma siete voi che ogni anno vi inventate questa cosa hanno detto no non siamo noi ma non la vogliamo neanche scoraggiare cioè non ho detto ok però perché pensavano fosse una cosa innocua allora parlandoci su Facebook ci siamo scritti con l'amministratore della loro pagina e gli ho detto forse non è tanto innocua perché anno dopo anno dà un'impressione su questa campagna che è una stupidaggine cioè potreste usare la forza del web per fare passaparola su cose molto più cioè ma con tutto un altro contenuto appunto ok oppure oppure i tastisti o altre comunità di persone che sono a contatto col pubblico e ci chiacchierano ecco questo si potrebbe pensare no quindi per esempio un hotel o un nuovo locale o un nuovo ristorante ingaggia i tassisti per raccomandarlo al loro cliente eccetera allora viral passaparola guerriglia guerriglia significa è una definizione che esiste dall'82 e significa delle azioni a basso costo ma con forte impatto emotivo perché appunto le azioni di guerriglia sono quelle usate da da diciamo forze che sono in minoranza rispetto ai grandi eserciti la storia viene da là però in realtà c'è anche un significato se volete sì un significato politico perché rispetto rispetto ai giganti che poi in realtà il guerriglia che è stato utilizzato anche dalle grandi aziende oramai però è anche un modo per tirare la gente dalla propria parte cioè colpendo la loro immaginazione per esempio i flash mob tutte queste cose che che oramai si usano si usano molto ci sono molti molti strumenti per colpire l'immaginazione appunto creare delle notizie ad arte cioè fare tutto un periodo di campagna su una determinata notizia un personaggio e poi si scopre che invece era il lancio di un libro cioè quel personaggio era fittizio invenzioni di di questo tipo strumenti multimediali installazioni nelle città c'è tipo quella struttura che ha costruito la nostra si 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 adesso non ce l'ho presente è stato messo su e poi ho dovuto svontare un poco però si è parlato moltissimo ma io avevo dei sensi per appunto non avendo internet ci sono video di ah ecco l'ultimo che ho visto l'ultimo che ho visto molto interessante è il lancio di un canale tv che fa film di azione o comunque suspense thriller eccetera ha messo su una piazza di una città molto tranquilla del belgio il pulsante ecco quello l'ho condiviso appunto l'ho condiviso perché era decisamente sorprendente quello che succedeva il pulsante diceva push to add drama cioè premi qui se vuoi aggiungere del drama alla tua vita se vuoi movimentare la tua vita e succedeva tutta una serie di cose incredibili cioè nel momento in cui la persona premeva arrivava un'ambulanza si perdeva il ferito arrivavano dei motociclisti si picchiavano sparatorie si sparavano succedeva di tutto tutti chiaramente attori comparse e poi uscivano dei giocatori di rugby sono delle scene delle scene veramente e chiaramente sotto gli occhi così allucinati delle persone del paese e soprattutto di quello che aveva premuto il pulsante e poi calava un grande drappo sul palazzo che diceva per la tua dose di dramma quotidiano il canale esatto marketing tribale anche un'altra delle definizioni che sentirete ma alla fine c'è un libro appunto scritto dal guru del marketing Seth Godin che parla di questo e che dice che praticamente in teoria teoricamente ognuno di noi è il leader di una comunità sempre per questi strumenti che abbiamo oggi per parlare per diffondere le nostre idee c'è anche l'altro lato della medaglia che cioè oramai chiunque si sente autorizzato ad aprire bocchia a dire la prima cosa e sentirsi un leader autorevole perché ha parlato su internet cioè diciamocelo anche questo però il concetto alla base è sempre quello cioè dare gli strumenti alle persone cioè tu riesci ad aggregare gruppi di persone se dai loro gli strumenti per scambiarsi delle cose utili informazioni esperienze per creare del valore insieme nel momento in cui tu riesci ad agevolare a facilitare la vita di una community online che crea valore in quel momento tu hai creato una piccola tribù sei il leader di una tribù ma sei il leader non perché comandi in qualcuno ma perché crei connessioni questo è l'idea molto più democratica che adesso il web ha diciamo realizzato ha consentito questi sono diciamo i bisogni fondamentali per cui le persone si aggregano la novità la varietà le esperienze la crescita il miglioramento il senso di appartenenza al gruppo la sicurezza il senso di avere un significato uno scopo il fatto di sentirsi come dire empowered cioè di fare una differenza di partecipare di creare qualcosa anche semplicemente divertirsi e ridere e stare un po' sereni questi sono i bisogni fondamentali sì siete stanche? caffè? pausa? volete continuare? eh? acqua? avevo calcolato che noi più che altro mi sono stancata io eh no nel senso che ho messo tutte queste slide tutte queste poi ho detto ma mo volete fare la osetta? facciamo una pausa grazie a tutti 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 grazie a tutti